Il tema è doppio, bellissimi costumi, torniamo indietro del tempo e ritroviamo Ulisse e quindi stiamo parlando della guerra e del cavallo di Troia, che è la mia parolanza, bravissimi, tanta fantasia, bei colori, poi si dice sempre che nel sottoceneri il carnevale non è così sentito, questa è la dimostrazione non è vero, loro lo dimostrano molto bene, colori sgargianti, un tema bellissimo, bravi ragazzi, complimenti Grazie a tutti